Essere come bambini per entrare nel Regno dei Cieli, aperti dunque alle novità, alla gioia e libertà dello spirito, lo ha ripetuto Papa Francesco nell'Omelia. Questi cristiani che sono chiusi, che sono ingaviati, questi cristiani tristi, non sono liberi. Perché? Perché hanno paura della libertà dello Spirito Santo, che viene tramite la predicazione. E questo è lo scandalo della predicazione del quale parlava San Paolo. Lo scandalo della predicazione che finisce nello scandalo della croce. Scandalizza che Dio ci parli tramite uomini con limiti, uomini peccatori. Scandalizza. E scandalizza di più che Dio ci parli e si salvi tramite un uomo che dice che è il figlio di Dio, ma finisce come un criminale. Quello scandalizza. Grazie per la visione. Grazie a tutti.